Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha, ragazzi, oggi mi sa che abbiamo già smarmellato un po' l'idea della trasmissione. Buongiorno, Biblioboom, 10 e 32 minuti primi con Elios ad, come dire, affrontare questa meravigliosa mattinata insieme ai ragazzi della biblioteca. Buongiorno, buongiorno Francesco, benvenuti anche a tutti i nostri ascoltatori, siamo a 20, ventesima puntata Biblioboom, sesto network, come dicevi te oggi, puntata un po' particolare. Lasciamo un attimino in disparte i libri solamente per questa puntata e ci soffermiamo su film, film di animazione, cartoni animati e quindi abbiamo voluto buttarlo un po' su, fare una cosa simpatica facendo ascoltare un pezzetto della sigla di UFO-Robot. Chi non l'ha cantata almeno quelle mille volte un pezzetto di UFO-Robot? Diciamo che parliamo a gente degli anni 80, nel senso che negli anni 80, però ho visto che alcuni canali ogni tanto danno dei piccoli assaggi di UFO-Robot. UFO-Robot, questo meraviglioso personaggio che ci ha resi, come dire, siamo riusciti finalmente ad avere dei confronti rispetto ad altri cartoni di animazione che in quei periodi erano un po' più tristi. Io ricordo Heidi, ricordo Remy, comunque questi personaggi senza genitori. Invece con UFO-Robot c'è stata un po' la nostra rinascita, no? La forza, il combattere il nemico, insomma, lo ricordo con vero piacere. Sì, hai ragione, se ripensi un po' a tutti i cartoni animati che c'erano negli anni 80, erano delle tragedie in atto, c'erano. Da chi perdeva una roba, chi perdeva l'altro, naufraghi su iselo deserto che non tornavano più, cani che sparivano, belle sebastie. Era tutto una mezza tragedia. Una mezza tragedia, una mezza tragedia. Adesso sono totalmente diversi i cartoni animati. Poi, se ti ricordi, anni 80 tornavi alle 4 e mezza, uscivi da scuola velocissimo, c'era bim bum bam, due cartoni, poi c'era un altro cartone alle 8 e fine della storia. Adesso ci sono 20 canali dove possono guardarsi i cartoni animati dalle 9 di mattina a mezzanotte. E' proprio un altro mondo, che poi non ho mai capito perché facevamo vedere il cartone animato alle 8 quando c'era anche il telegiornale. Che in ogni casa di tutti gli italiani c'era una guerra in atto tra padri e figli per vedere il telegiornale in cartoni. Io ricordo i quattro canali dove c'era il primo canale, il secondo canale e poi non c'era nient'altro. Avevamo altri due tasti alla televisione e basta. Però la cosa carina è che ricordo già una televisione a colori. Poi ricordo l'evoluzione è stata l'acquisto di una televisione che aveva un telecomando che era grande quanto un mattone. Però iniziavamo a fare i primi cambi programmi da seduti finché poi effettivamente non c'è stata l'evoluzione. Io ricordo un fresco fresco sul Rai 1 alle 5 del pomeriggio dove seguivo questo cartone Rémy e basta. Poi vabbè bim bum bam da un po' più, eravamo un po' più grandini, cioè grandini vuol dire entro gli otto anni. E poi niente, però da grande devo dire che in quei periodi c'erano dei meravigliosi animatori, meravigliosi registi, scenografi. Io ricordo Emanuele Luzzati che è un genovese ma un fantastico, un bravissimo animatore. Lui è stato scenografo più che altro, però ha fatto un sacco di cartoni animati. Proprio l'animazione era il suo grande... riteneva che il suo tipo di disegni e di temi fosse necessario per un'animazione diverso da quella sul naturale. Infatti se noi andiamo a vedere dei suoi cartoni animati che troviamo tranquillamente su internet e su YouTube sono meravigliosi ma sono veramente diversi. Noi stiamo parlando di un due volte candidato al premio Oscar come miglior sceneggiatura, scenografia. Noi stiamo parlando della Gazzaladra del 1964 e di Pulcinella del 1973. Io non voglio spendere più parole, vorrei che tutti coloro che ci stanno scondendo andassero su YouTube a vedere un po' questo secondo me grande, grande veramente animatore. Sì, è vero, preparando questa trasmissione di oggi siamo andati a riscoprire un po' tutte queste cose che avevamo messo un po' nel dimenticatore. Abbiamo scoperto che una volta, parliamo di una ventina di anni fa, era proprio un altro mondo il discorso dell'animazione. Se penso anche ai cartoni animati che guardavo io da ragazzino, sto parlando... Beh, il mio preferito in assoluto era Conan, il ragazzo del futuro. E poi ce n'era anche un altro che conosceranno sicuramente tutti che è Lupin, che erano stati creati da niente po' di meno che Miyazaki. Miyazaki che è uno dei disegnatori attualmente ancora più famosi del Giappone. Ma penso nel mondo, penso nel mondo, infatti ha vinto anche dei premi Oscar. Questo per far capire che era proprio tutta un'altra concezione dell'animazione, dei disegni. Veniva data veramente tantissima, tantissima importanza ai disegni, alle immagini che passavano sugli schermi. Però di questo ne parliamo dopo perché abbiamo la nostra Francesca dopo che ha preparato un bel tributo a Miyazaki con una serie di consigli, ma questo dopo. Io volevo tornare, e poi andare avanti perché oggi abbiamo ospiti, abbiamo un sacco di cose che dobbiamo fare. Volevo tornare un attimo all'animazione italiana perché non dobbiamo dimenticarci di Enzo Dalò. Enzo Dalò è un appassionato musicista, ma ad un certo punto regista e sceneggiatore di serie televisive e di animazioni. Nel 96 Elios esce con un capolavoro che diventa veramente mondiale, che è la Freccia Azzurra. Freccia Azzurra è un bellissimo cartone animato, ma non solo, non si ferma lì perché nel 98 esce con il suo successo, secondo me quello che lo ha reso più famoso, che è La Gabbianella e il Gatto. Basato sul romanzo di Sepulveda, storia di una gabbianella del gatto che le insegnò a volare, è lì veramente fantastico. Ma esce ancora poi con Pinocchio, poi esce con Momo alla conquista del tempo, Opopomoz, bello. Allora, veramente, no, è nel 2017 con Pipì, Pupù e Rosmarina, è il mistero delle note rapite. È una serie tv che se riuscite veramente recuperatela e vedete perché ci sono le meravigliose grafiche, i disegni di Anna Laura Cantone, fantastica illustratrice italiana. E le musiche sono, sì, di Daniele e di Gregorio. Oh, ragazzi, nel senso che mi piacerebbe parlare perché poi questo è un po' il nostro mondo, no? Noi tutti questi meravigliosi cartoni ce li abbiamo anche in prestito nelle nostre biblioteche, perciò, e poi li conosciamo, li abbiamo studiati, soprattutto perché noi facciamo animazione nei nostri laboratori e prima di fare animazione devi fare un minimo studio. Eh sì, tu potresti stare qua ore e ore a parlare di... Sì, no, beh, dal punto di vista cinematografico, diciamo, la sai lunga, nei fatti di lavori, di produzioni nelle scuole, cartoni animati, quindi è proprio piacevole starti ad ascoltare. Un'altra cosa volevo dire è che oggi parleremo, sì, di film di animazione non solo per piccini, ma anche faremo un discorso sui fumetti, che molto spesso viaggiano di pari passo, ci sono fumetti da cui hanno tratto film e viceversa, quindi faremo un accenno anche a questo argomento. Franca, cosa dici? Partiamo con la prima canzone? E vai, dai, annunciala, dai, oggi l'annunci tu. Oggi l'annuncio io, People have the power. Ecco qua, rientriamo, rientriamo, meravigliose le musiche scelte da Elios oggi, fantastico, fantastica playlist. Devo dire che secondo me Elios a casa tua è rientrata la ragazzina, perché non ci posso credere, musica fantastica. Eh sì, come è fatta da corso, siamo rispiombati negli anni 70-80, e in effetti sì, prima quando Anita, mia figlia, sicuramente è più sul pezzo, più su musiche moderne. Però voglio... Allora, che dici? Eh no, perché sono emozionato, perché ospite oggi abbiamo un occultore, però è giusto che tu presenta il nostro ospite di oggi. Vai Elios. Allora, l'ospite è un gran... mi fa molto piacere essere riuscito a tirarlo dentro in BibbioBoom. È un mio caro amico, papà di una compagna di mia figlia. Ciao Flavio, ben arrivato. Ciao, ciao a tutti. Ciao Flavio, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Come va con le videochiamate di tua figlia, Classroom, Mica Classroom? Qua siamo tutti e tre invasi da videochiamate, videolessioni con la scuola. Eh, ultimamente è un casino, veramente. Siamo tutti in mezzo alla tecnologia, a un qualcosa che fino a un po' di tempo fa non ci avrei mai creduto. Se l'avessero detto, non ci avrei creduto. Le hai imparate tutte le regole del perimetro, del lato, dei trapezzi? Sì, sì, sulla geometria vado abbastanza forte. Tutto il resto niente, però... Però vorrei dire una cosa che oramai il mio sguardo, guardando verso l'orizzonte, vede una fine, almeno per questo periodo, che è vicina. Ragazzi, due settimane, due settimane, lo ripeto ad alta voce, due settimane e abbiamo chiuso questo periodo scolastico. Devo dire che i genitori, ma soprattutto i ragazzi, si sono comportati veramente bene e sono stati bravissimi. Bravissimi perché non è semplice. Una cosa è la lezione, come dire, così front con le sensibilità, le emozioni che vengono espresse dalle parole nella stessa stanza. Altro è la video-lezione. Perciò bravi tutti, anche le insegnanti, devo dire. Sì, sì, è stata una novità per tutti, un'chiombata dal cielo e all'improvviso. Sono stati bravi tutti a ingegnarsi, perché comunque anche le bambine, i bambini e gli alunni non è semplice. Almeno io parlo per la mia, ma penso che anche tu, Flavio, possa dire la stessa cosa. Sì, sì, naturalmente ho notato che i giovani sono molto più elastici. Nelle novità sicuramente rispetto a noi si adattano più velocemente. Sì, quello è poco, ma sicuro. Flavio, allora noi oggi ti abbiamo invitato, perché così, chiacchierando un po' io e te, ci accomuna un po' questa passione. la passione per alcuni tipi di film, di animazione, magari non classici film di animazione Walt Disney, ma quelle per persone un po' più grandicelle. Quindi oggi mi avevi detto che volevi parlare appunto di un film e poi dopo anche di un fumetto che ti ha appassionato. Quindi lascio un attimo a te la parola per consigliarci. Intanto vedi tu da che cosa vuoi iniziare, se dal film o dal fumetto. Ci facciamo due chiacchiere insieme. Sì, ma io sono sempre stato appassionato appunto di fumetti. Il disegno è un po' il mio hobby, il modo che ho così per rilassarmi. E i film d'animazione, che sono dei cartoni animati che però non sono rivolti a un pubblico di giovanissimi, di bambini o che, ma sono soprattutto per le persone grandi, sono un mezzo, secondo me, di espressione artistica, alternativo al cinema. E sono veramente dei bellissimi film, sia moderni che più vecchi, anche perché forse è un mezzo artistico di espressione, uno dei primi che sono nati, forse ancora prima del cinema, i film d'animazione, non so, fatti con la tecnica, per esempio, dello stop motion, c'erano già. Quindi, secondo me, sono molto belli. Devo dire che lo stop motion è quello che io adoro di più, perché, vabbè, al di là che adesso quasi tutti lo stanno riprendendo. Gli ultimi calzoni... Fra, magari spiega velocemente che cos'è per quelli meno sul pezzo. Lo stop motion è una sequenza di fotogrammi, di illustrazioni, che uno dietro l'altro fa camminare, fa saltare, fa animare la scena e il cartone animato. In Italia utilizziamo la metrica che per fare un secondo di cartone animato ci sono 25, da 24 a 25, miniature, come dire, fotogrammi, per fare un secondo. Forse magari è più esperto il nostro ospite rispetto a questa cosa qua, però noi come biblioteca, te lo diciamo perché, lo volevo dire, perché come biblioteca noi facciamo i laboratori di animazione, perciò facciamo piccoli cartoni animati utilizzando lo strumento dello stop motion. E devo dire che ancora oggi è affascinante. Io sono d'accordo assolutamente con te. E poi adoro anche, come dicevi tu, il cinema d'animazione per più grandi. Ah, bene, non lo sapevo che fate questa attività. Beh, poi magari, gli giriamo qualche cartone animato che hai fatto. Eh, volentieri, volentieri. Sì, 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 ci dai il tuo parere. Perché no? Però adesso parliamo... Il film ci vuole... Eh, no, appunto, volevo chiederti che film ci volevi consigliare. Ma, il film che mi viene in mente, che mi è piaciuto tantissimo, che è da consigliare, è Persepolis, per esempio. Che è un film iraniano, un film d'animazione iraniano, con dei disegni molto semplici, però veramente, veramente appassionanti, fatti bene, è disegnato bene, poi naturalmente la storia è bellissima, e oltre a raccontare la storia personale di un personaggio dell'Iran, racconta anche un po' la vicenda storica, anche se vista magari da un punto di vista un po' onirico in alcuni casi, però veramente bella, dell'Iran, e di tutta la sua travagliatissima storia, che ancora adesso, naturalmente, sono incasinatissimi. E sì, purtroppo ne hanno avute, ne hanno passate tante. E mi pare ci sia anche un libro, un illustrato di Persepolis, se sei... il fumetto. Mi ricordo bene. Sì. Vorrei essere un fumetto, infatti, credo che sia nato prima il fumetto, e poi dopo il film. Sì. Questo film, veramente, lo consiglio, perché a me è piaciuto un casino. Sì, l'ho visto anch'io e confermo. Un altro film di cui parlavamo ieri, Flavio, che abbiamo visto tutti e due, che comunque è sempre un po' di quella zona, la zona del Libano, era Balzer con Bashir, che abbiamo visto tutti e due, che ci eravamo detti che avremmo consigliato anche questo. Sì, sì, anche questo è bellissimo, è un po' forte come tematiche, perché affronta proprio il tema della guerra tra Israele e Libano, se non mi sbaglio, quindi è molto drammatico, però ho fatto veramente bene, con una tecnica molto particolare, più moderna, probabilmente di Persepolis, e anche qui la sceneggiatura è bellissima, le musiche sono molto belle, e anche questo lo consiglio, mi è piaciuto molto. Sì, sì, è vero, è vero. Tu Francesco l'hai visto? Allora, Persepolis sì, e mi piace un po' questo modo di raccontare, perché non è solo secondo me stop motion, ma c'è anche una serie, diversi sono i modi per raccontare l'animazione di Persepolis, ma invece Walser Col Bashir è bello perché mi piacciono molto i colori, i colori secondo me di un cartone per adulti devono essere così, questi chiari scuri evidentissimi, questi toni di grigio pazzeschi, secondo me per gli adulti l'animazione deve essere fatta in un certo modo, non può essere allegra, brillante, solare, con i colori che ci sono, che si utilizzano per i bambini, mi piacciono molto perché poi va bene, se non erro, Persepolis è stato anche candidato ad un premio Oscar, cioè noi stiamo parlando di capolavori, stiamo parlando di, come dire, di film che hanno, che hanno fatto la storia del cinema d'animazione per più grandi, però io volevo fare una domanda al nostro ospite, ma dei manga e degli anime cosa ne pensi? Perché io, secondo me, cioè non lo so, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, però, per esempio, io appassionato di animazione, quando mi sono avvicinato agli anime, alcuni mi sono piaciuti tantissimo, altri un po' di meno, tu cosa ne pensi? Ma io, diciamo che, mi sono sempre appassionato di più al fumetto e all'animazione così, non proprio giapponese, ma magari di più quella francese, belga, italiana, però, devo dire che anche i manga sono veramente belli, sono fatti bene, per esempio, un film d'animazione manga che mi è piaciuto tantissimo, che consiglio a tutti, è Akira, che di qualche anno fa, però, sempre molto attuale, molto bello. Sì, Akira è pazzesco, io lo, devo essere sincero, ho provato a vederlo una volta, alla fine era un po' un po' bollito, eh, alla fine di Akira, ci devo riprovare, però anche lì ci sono dei disegni, delle scene, tutto abbastanza onirico, particolare, veramente, almeno una volta bisogna provare a vedere Akira, poi o piace tantissimo o meno, però, almeno una volta, non so se tu l'hai visto, Francesco, provalo. No, 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 l'ho visto, ma voi, se, allora, Akira è un manga che solo a sentire il genere uno capisce se vederselo o meno, Akira è di genere cyberpunk, perciò già immaginate punk, cyber, insieme, cosa può venire fuori, e, devo dire che è proprio così, è un cyberpunk, per come uno intende le parole unite, e, poi mi piacciono, anche lì, i colori, ci sono questi bianchi e neri, ma ci sono anche questi rossi accesi, cioè, i colori sono fondamentali, sono fondamentali per distinguere il, la, come dire, la fascia d'età a cui viene proposto, a cui viene proposto un cartone. Sì, è vero, infatti, alcune scene che sono di cartoni animati, di animazione, sono talmente forti perché vengono associate a determinati colori, a determinati chiaroscuri, che alla fine ti rimangono in mente, a me vengono, mi sono rimaste in mente alcune scene di, come abbiamo dato di Valzer con Bashir, o alcune scene, anche, c'è un cartone animato, adesso così, saltando da, proprio da una parte all'altra, di dieci minuti, da una parte all'altra, anche alcune scene di Pulp Fiction, scusa, di Kill Bill, dove ci sono alcune scene di cartone animati, perché lì sono delle scene fortissime che alla fine ti rimangono in mente, ti rimangono in mente, come dicevi tu, i colori, le sfumature, sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto. Io però, voglio fare l'ultima domanda e poi mi taccio, e vi lascio all'intervista, però, se penso alla, come dire, al fumetto, essendo, come dire, ed essendo nato negli anni 70, io sono vissuto con Topolino all'inizio e poi, diventando un po' più grande, ho maturato il mio essere appassionato di fumetti con il meraviglioso Diabolik. Cosa, cosa, cosa ne pensate? Vai vai Flavio, inizia tu. Ma, Diabolik, a me, non so perché, perché poi, a fine, sono gusti, molto personali, non mi è mai piaciuto. Il fatto che fosse colorato con i retini, così, era una cosa che non, non so perché, non l'ho mai digerito tanto. Io invece, quando ero ragazzino, ero appassionatissimo di Asterix. Con Asterix, penso di averli letti tutti, anche riletti a volte, sono cresciuto praticamente. Io, devo essere sincero, Topolino, ho sempre fatto un po' fatica, ma perché, cioè, fondamentalmente non sopportavo Topolino, mi dava sui nervi, quindi, facevo un po' fatica, però, di Landog, ci sono stati tanti, per parecchi anni, tutte le settimane, aspettavo, l'uscita, no, mensile, mi sembra che fosse mensile, tutti i mesi aspettavo l'uscita di Landog, le storie, i disegni, in alcuni periodi, di Landog erano veramente, veramente fantastici. Flavio, tu invece, sempre così, chiacchierando, qualche giorno fa, mi dicevi che, avresti voluto consigliare, come fumetto, un fumetto che si intitola Caboto, dici due cose, su questo fumetto, che io sono andato a guardarmelo, è effettivamente molto particolare, esce un po' dai soliti canoni, di fumetto, che uno si può, si può immaginare. Sì, sì, cioè, ne sono tantissimi di fumetti, uno più bello dell'altro, però, Mattotti, in particolar modo, per me, è un, è un grande, è un vero artista, perché lui, è quasi a livello pittorico, no, e quindi, ha una capacità di disegnare, veramente pazzesca, e di coinvolgere anche il lettore, in storie bellissime, e questa qui, appunto, di Caboto, è anche, prende, cioè, parte da una vicenda storica, quindi, racconta proprio la storia di questo esploratore, e secondo me, sono bellissimi, veramente, i colori, le ambientazioni, le atmosfere, che riesce a ricreare, tutto a matita, a volte, magari, con pastelli a cea, veramente bravissimo, lo consiglio, Caboto, ma poi, lui ne ha fatti anche moltissimi altri, anzi, recentemente, se non sbaglio, ha fatto anche un film d'animazione, che si intitola, una roba tipo, quando gli orsi sbarcarono in Sicilia, o una cosa del genere. Questo non lo sapevo, però sono andato a vedermi alcune tavole, di questo fumetto, che mi dicevi, in effetti sì, alcuni disegni sono, sono veramente incredibili, poi mi sono letto un po' di recensioni, lui si richiama dipinti del Cinquecento, del Seicento, da Caravaggio a Velasquez, consiglio a tutti, di fare un giro su Google, e scrivere Caboto il titolo, ma togli l'autore e verificare quello che stiamo dicendo, sono veramente dei dipinti, dei disegni molto particolari e molto belli, secondo me. Quindi Fra, c'è un compito, andare a cercarti questi disegni. Di Caboto, come ci ha anche anticipato il nostro Flavio, ne conoscevo la storia come avventurier, cioè nel senso, uno che ha fatto, non so se è la circunnavigazione dell'Africa, adesso ha fatto qualcosa, e sono andato a vedere anch'io, ed è uno che era nato in una, a Gaeta, ma poi era stato adottato, come dire, dalla città veneziana, che era la città per eccellenza degli esploratori, dove partivano le navi, i transatlantici del Quattrocento, del Cinquecento, ed era, perciò sicuramente sarà il mio prossimo impegno, leggere almeno qualche fumetto su Caboto. Bene, io Flavio lo ringrazio, perché veramente ci ha aperto gli occhi, rispetto a quelle che sono le avventure, attraverso l'animazione, e attraverso anche questi fumetti, che ci ha consigliato, tra l'altro e peraltro i nuovi, anche se non sono nuovi per l'editoria, per noi sicuramente, e lo ringraziamo, lo ringraziamo per il tempo, perché veramente, esperti così, di animazione, di fumetti, ce ne sono pochissimi, perciò grande Elios, e bravo Flavio. Eh sì, lo ringrazio, lo ringrazio anche io Flavio, perché come dicevi te, non è semplice riuscire a parlare di film d'animazione, fumetti, perché magari con i libri è molto più semplice giocarsela, invece con i fumetti è un pochino più complesso, però ci ha dato tanti spunti, tanti titoli, magari non straconosciuti, ma che sicuramente vale la pena andare a guardare, sia film che fumetti, andare a sbirciare tra le pagine dei fumetti che ci ha consigliato Flavio. Flavio, anche io ti ringrazio, e chissà che magari ti rinvitiamo per un'altra puntata. Va bene, grazie a voi. Grazie Flavio. Molto volentieri. Grazie a voi ragazzi. Grazie di cuore. E il prossimo brano. Che bella chiacchierata che ci siamo fatti con Flavio, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti di cui ammetto che non le conoscevo. Per esempio il fumetto che ci ha raccontato Caboto. Vale la pena, come dicevo, di andare a curiosare e darci un'occhiata. Bravo, bravo. Anche come nel dettaglio dell'animazione è stato un ottimo consigliere, Flavio. perciò veramente poi tu alla fine dirai no, giusto, racconterai le cose che sono state consigliate in questa trasmissione, no? Come al solito, perciò prenderemo tutti appunti. E adesso tu, cosa mi vuoi raccontare? Ce l'hai uno? Guarda, prima di dare anche noi un consiglio ai nostri ascoltatori su un film volevo tranquillizzare tutti quanti, nel senso che mentre chiacchieravamo con Flavio ci hanno scritto in centinaia di persone preoccupatissimi per Erika, ma dov'è? Dov'è finita? Perché non c'è? Allora, state tutti tranquilli, volevamo dirvi che oggi Erika ha preso un giorno di ferie, quindi ha avuto sicuramente cose interessantissime da fare, tipo andare dal parrucchiero, chissà che cosa si è inventata. Speriamo che chiuda, che finisca prima della chiusura della nostra trasmissione così magari passa solo per un saluto. Però voleva, hai ragione, hai fatto bene, hai fatto bene, ma soprattutto bravi i nostri radioascoltatori che si ricordano dei conduttori di questa trasmissione e anche il momento di Erika che oggi è mancato. Eh sì, ci proviamo, noi prima della fine della trasmissione proviamo a farci salutare da Erika se ci riusciamo, altrimenti la risentiremo domani. fra una cosa al volo, prima del prossimo ospite che pensavamo anche noi di consigliare un qualche cosa ai nostri ascoltatori. Un po' di tempo fa, qualche mese fa, avevo prenotato, un utente aveva riportato in biblioteca un film, mi era capitato in mano, ma aveva incuriosito la copertina e ho detto ma sì, provo a guardarmelo. Questo film si intitola Your Name di Shinkai che io magari non sono espertissimo, mi piacciono questi film però non sono espertissimo, mi hanno detto essere uno dei più famosi registi di film animazione giapponesi ed è un film dove i protagonisti sono Taki e Mitsuha, un ragazzo o una ragazza, una bella mattina si svegliano uno nel corpo dell'altra e cominciano a interrogarsi un po' su un motivo sul perché sta succedendo questa cosa. Man mano che passano i giorni nasce un vero rapporto di amicizia e curiosità tra i due ragazzi che tenteranno per tutto il film di incontrarsi un po' al contrario uno nel corpo dell'altro quindi Your Name anche perché il titolo Your Name è anche perché c'è l'ossessione quasi di ricordarsi l'immome dell'altra persona perché ogni sera la magia diciamo svanisce quindi le provano un po' tutte si scrivono i loro nomi sulla mano si mandano messaggi con il cellulare pensano in tutti i modi di comunicare tra di loro e poi tra di loro nasce anche una sorta di storia di storia di storia tutto contornato da una comita che passa sopra quest'isola del Giappone che va fermata va fermata questa comita altrimenti potrebbe succedere un qualche cosa di non dico più niente non dico più niente questi personaggi ma anche le trame dei giapponesi sono sempre un po' io le chiamo strane perché ad entrare nel corpo far condividere nello stesso corpo un maschio e una femmina insomma tutte queste cose qua però c'è questa parte qua di questo che il Taki ha un lavoro part time in un ristorante italiano nel senso che l'Italia è comunque inserita è inserita alla grande anche nell'idea negli ideali di chi di chi fa cinema perciò grande questo questo regista io però manderei il prossimo brano perché non vorrei fare tardi oggi perché abbiamo anche questo pezzo importante che arriva dopo con la nostra Francesca perciò prossimo brano e poi l'ospite Baby Baby K da 0 a 100 il desiderio di questa estate del mare non lo so Elios inizia a essere presente in noi vero? eh sì è qua che stiamo facendo il conto alla rovescia speriamo che che non facciano quello che stanno dicendo che corrono l'uscita dalla Lombardia per altre tre settimane giuro che se inviano questa cosa per tutti quelli che vanno ai bar ai parchi ammassati la sera li vado a prendere uno a uno giuro però no no noi dobbiamo come dire eseguire dettagliatamente le regole che ci vengono fornite perciò nel rispetto della salute di tutti dobbiamo assolutamente ottemperare perciò noi vedremo io spero spero che ci siano dei numeri che possano veramente far cambiare le idee che si stanno adesso un po' divulgando però veramente c'è necessità di essere di rimanere sul pezzo ancora in Lombardia ma ragazzi non dimentichiamo della meravigliosa giornata qua a Biblio Boom questa mattinata che vede protagonista l'animazione l'animazione di un certo livello è l'animazione legata all'arte è l'animazione legata a questi personaggi che rendono belli questi cartoni animati io li direi direi quasi fatti a mano stamattina con noi ci parlerà di forse del più importante forse del più grande regista di animazione al mondo la nostra Francesca ciao Franci ciao ragazzi come state ecco ciao ciao Francesca tutto bene tu sì sì benissimo allora oggi vi mi sentite ragazzi e avvicinati un po' al microfono pronto adesso sì mi sentite adesso forte e chiaro ok benissimo allora oggi vi parlo vi porto in Giappone siamo già in tema animazione e siamo in tema immaginazione magia vi porto dal più grande che è Yao Miyazaki molti quasi tutti direi avranno visto Lupin i fantastici cartoni animati di Lupin io personalmente ci sono cresciuta ma oggi vi parlo del più grande che è La Città Incantata un film d'animazione del 2001 che ha vinto anche l'Oscar come migliore film d'animazione nel 2003 e mi riallaccio a quello che stavi dicendo Francesco perché è tutto ma tutto disegnato a mano da Yao Miyazaki quindi cartoni animati giapponesi di un certo livello stiamo parlando di arte sostanzialmente quest'uomo che ha inseguito il suo e dopo aver studiato economia e giuricrudenza ha deciso di cambiare la sua vita e di dedicarti all'indanimazione che nei primi anni 80 ha aperto lo studio Vili porta un nome italiano il nome di un aereo perché appunto il suo sogno era volare ma non poteva volare perché era mio e quindi decide di far volare la sua fantasia e i suoi pensieri scriverà disegnerà anche un cartone animato che si chiama Cialza il vento che parla appunto di aviazione noi ovviamente nel nostro circuito bibliotecario abbiamo sostanzialmente tutte le sue opere che uno potrebbe passare così frettolosamente dicendo sono cartone animati quindi li prendo per i miei bambini in realtà quello che vi voglio dire è che sono dei film di animazione di altissimo valore artistico e sono bellissimi da vedere anche per gli adulti assolutamente sono ricchi di contenuti hanno delle trame che sono delle fiabe perché sono delle favole c'è l'elemento magico ci sono gli spiriti che rappresentano sempre l'elemento della natura e anche delle tradizioni dell'antico Giappone che insomma sono state spassate via dalla tecnologia e che si che tornano con con violenza a volte come nella città incantata che sono questi spettri che animano una città misteriosa incantata dove la bambina si addentra con la sua famiglia e dovrà fare i conti con questi spettri quindi anche un messaggio molto interessante perché la natura e le tradizioni in senso anche un po' del sacro perché sono sempre degli spiriti sacri a cui andiamo a pestare i piedi tornano con forza e ci chiedono di superare delle prove per poter arrivare alla fine della storia quindi in questo senso sono proprio delle fiabe a tutto tondo e quelle di Miyazaki sono delle fiabe che fanno sempre riflessere il tema che dicevi te Francesca quello del rispetto appunto della natura lo troviamo in tantissimi film di Miyazaki uno dei miei preferiti che è Nausicaa della valle del vento sempre di Miyazaki anche lì c'è questo rispetto per la natura questo salvare la natura ad ogni costo e poi si possono trovare questo tema anche in tanti altri suoi film il bello è proprio questo che è pieno di messaggi una cosa che a me piace molto è che lui si rivolge ovviamente ai bambini nel senso che guardate che parliamo di cartoni animati che hanno fatto record mondiali di cazzi di visualizzazioni quindi lui è un gigante si rivolge ai bambini parla ai bambini ma non è conciliante lui è stato definito il Disney dell'ottente però a differenza di Walt Disney lui mostra anche quali sono i disastri che l'uomo combina nel cartone animato che tu hai citato mostra già un mondo distrutto dall'uomo dalle guerre dall'inquinamento quindi è veramente un autore che fa riflettere non è per niente rassicurante e conciliante e non dimentichiamo che negli Stati Uniti d'America dove comunque viene molto apprezzato i suoi cartoni animati sono stati molto censurati e tagliati quindi come dire tante volte anche con un animato si Francesco no 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 nel senso volevo tornare un attimo perché mi senti Franci noi ti sentiamo ok no volevo un po' tornare perché volevo dire anche il mio preferito di Miyazaki e il mio vicino Totoro proprio perché legato all'ambiente sono queste questa famiglia che per stare vicino alla mamma si trasferiscono in campagna e c'è quest'elemento che è il soprannaturale che avvicina queste bambine alla natura è una roba meravigliosa colori lì è un mio punto di vista ecco perché è il mio preferito lì secondo me si è superato anche in questo in questo cartone animato in questa pellicola e come dire Franci è un artista lo possiamo definire un artista è un grande artista secondo me tra l'altro in Totoro ci sono elementi autobiografici perché lui ebbe sua madre malata e quindi riporta questi elementi poi infatti ha detto che lui ha voluto mettere due bambine perché sennò gli sarebbe venuta troppa malinconia però questo elemento di tornare alla natura c'è sempre l'elemento di chi dalla città torna alla natura e viene investito dallo spirito magico sacro della natura che è sempre qualcosa di imprevisto bisogna bisogna assolutamente consigliarlo Franci perché veramente ho in mente ce l'ho fissa l'immagine alla fermata dell'autobus le due sorelle con questo mega gattone con la pioggia un ombrello tutta cartoccia però è impossibile raccontare bisogna vederlo perché proprio come dici tu si esprime un'arte pazzesca si è proprio la capacità dell'artista è quello che con un'immagine senza essere mai didascale riesce ad affascinarti a trascinarti nella storia a trascinarti nella bellezza delle sue immagini disegnate una a una di persona e poi con tutto uno suolo di suoi assistenti dello studio Ghibli però lui ti riesce a trascinare e a trasmettere in maniera inequivocabile il suo messaggio senza mai annoiarti con le cose che vi sto dicendo in maniera noiosissima lui te le dice facendo ti spalancare gli occhi dalla meraviglia ecco sì che volevo dire che poi tra i tanti film di Miyazaki ce ne sono alcuni magari un po' più passatemi in termini difficili tipo la città incantata il castello orrante di Or dove è un po' complesso stare dietro alla alla trama ogni tanto magari si rischia di perdersi ci sono altri film invece tipo Il mio vicino Totoro Pogno mi viene in mente anche Pogno che è bello proprio guardare o Kiki consegna domicilio anche che è bello poterli guardare anche con i più piccoli provare a far avvicinare anche i più piccoli a questo mondo che è un mondo diverso di castori animati non stiamo parlando della storia del Disney Pixar è un qualche cosa di diverso di assolutamente meraviglioso e però appunto ce ne sono alcuni che sono veramente adatti anche da provare a far vedere ai più giovani anche perché no scusami Franci anche perché esprime come dire attraverso questa giovialità di guardare insieme un cartone passano messaggi lancia messaggi pazzeschi l'ambiente veramente vedendo uno dei suoi film quelli più legati all'ambiente il messaggio passa e secondo me ci apriamo tutti ad una sensibilità maggiore rispetto al tema questo è affascinante di Miyazaki esatto cioè lui chi comunica questo messaggio in maniera fluida scivola via tu te lo guardi con passione però poi ti viene veramente voglia di andare nel bosco e la cosa bella è che appunto lo puoi leggere sfruttare a più livelli dal bambino piccolo che rimarrà incantato dai disegni stupendi all'adulto che farà altre riflessioni ma a tutte le età si può apprezzare questo autore ecco questo è il bello assolutamente un'altra riflessione che non so se condividete riesce a rendere il brutto bello perché se poi poi vedete i personaggi un po' strani no che poi prendono anima animazione diventano animati anche i brutti che raccontano sensibilità che portano rispetto diventano dei personaggi belli perciò c'è anche la concezione di vedere dal punto di vista delle emozioni il personaggio e non solo dall'aspetto estetico è importantissimo questo che stai dicendo tanto è vero che c'è Porco Rosso che uno pensa il porco il maiale si intitola proprio così Porco Rosso è la storia di questo avviatore italiano tra l'altro che per motivi spiegabili si trasforma in un maiale e combatte i fascisti quindi lui non sceglie eroi dei cittadini che sono forti ma americano succede infatti hanno cercato tante volte di modificare i suoi film le sue locandine questo ideale di sforza supereroe eccetera si sceglie un eroe che magari non è canone estetiche è brutto è l'animale è anti-animale che non è nelle sue schiave animate quell'animale che non è mai quello che ha più affile quello che ha più fascino è quello che viene deriso e per lui diventa l'eroe questo è un capovolgine interessantissimo allora Franci ci rimane ci rimane un minuto dai vai Elios perché poi voglio fare una domanda a Francesca aggiungere una cosa rispetto a quello che avevi detto te spesso e volentieri la natura stessa così tanto cara a Miazzati la natura che si ribella alle atrocità commesse dall'uomo è disegnata come qualche cosa di mostruoso che fa paura che spaventa se non poi alla fine ci si rende conto che il vero mostro non era la natura ma nel caso dei suoi film spesso e volentieri l'uomo e c'è questo capovolgimento di personaggi quelli che sembrano cattivi e malvagi all'inizio alla fine sono quelli che diventano buoni da rispettare e da salvare allora Franci posso dirvi un'altra cosa bellissima che lui tante volte parte da un'esatura quando ha chiesto è un bel artista da spisegnare e non sa dove finisce la storia questa è una grandissima cosa lui non mette Pavolino una storia così che se non la vendiamo lui comincia nella narrazione una storia che diventerà un partenari che bello se non è un artista lui che bello allora Franci scusa due film assolutamente da vedere sono da vedere tutti 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 però dacci due pellicole di due cartoni di Miyazaki che tu assolutamente consigli e perché e poi chiudiamo siamo in ritardo è incantata che è il più grande secondo me e come hai detto tu il mio vicino Totoro perché è più accessibile per i bambini se me ne chiedi due ti dico questi ok in realtà in realtà poi non resisto ti bello nel cielo che sono davanti di out però questi due andate di sicuro ok va bene allora grazie come al solito Francesca puntualissima puntualissima con l'argomento e con il suo come dire modo di raccontare grazie per per quanto dedichi alla nostra radio e per quanto lavori perché questo è il lavoro per Francesca cioè nel senso che dare dei combi l'abbiamo chiamata quando ieri l'altro beh è uno dei suoi registi preferiti però l'abbiamo chiamata dice Franci ciao ascolta ma di animazione ci si non vi preoccupate ci penso io grande Franci grazie vi volevo lasciare con un brano che non so se abbiamo si ce l'abbiamo non ho scelto proprio un brano delle colonne sonore di Miyazaki ma sempre di un grande artista giapponese che è Yuriki Sakamoto che è l'autore della colonna sonora di un film di un altro grande regista giapponese che è Nagisa Ushima il film si chiama Furio Merry Christmas Mr. Lawrence e questa è la colonna sonora quindi vi porto nella magia del Giappone cambiando autore ciao Franci ciao ragazzi un grande momento qua a Biblio Boom di legato all'animazione grazie Franci sei stata bravissima veramente ci hai dato spunti e ci hai e hai ricordato anche quanto l'arte può può essere raccontata in modo diverso noi crediamo veramente come dicevi anche tu Franci che Miyazaki è un grande artista sì potremmo per chi poi è appassionato si potrebbero fare dieci puntate solo su di lui perché ha fatto tantissime cose e veramente tutte molto molto interessanti adesso invito i nostri ascoltatori a prepararti con carta e penna perché oggi diremo un sacco un sacco di titoli da da assegnarsi da prenotare per da noleggiare in biblioteca insomma quindi preparate carta e penna che tra poco le gli smarmelliamo li smarmelliamo allora che meraviglia oggi ragazzi perché veramente anche attraverso il cinema d'animazione siamo riusciti a raccontare un po' la nostra biblioteca tanti sono i materiali disponibili di quelli che vi abbiamo consigliato oggi poi Elios farà una carrellata da qui a poco perché siamo quasi giunti alla fine Erika la incroceremo domani mattina con tutte le sue le novità del weekend per facebook della della biblioteca delle civiche biblioteche di Sesto San Giovanni perciò Elios se sei pronto partiamo con la carrellata Sì sono pronto solamente una cosa domani mattina appunto con Erika poi vi diremo anche la nuova programmazione di Bibboboon che partirà dal mese di giugno dal mese di giugno in poi però facciamo tutto domani che è l'ultima puntata della settimana allora pronti via un fumetto un fumetto consigliato da Flavio è Caboto poi film abbiamo Valzer con Bashir Persepoli e Akira poi film che ho consigliato prima si intitola Your Name di questo film non sono dimenticato di dire potete noleggiare anche i fumetti c'è anche il fumetto in tre volumi potete noleggiare prendere in prestito anche il fumetto di Your Name Francesco ci ha consigliato tutta una serie di titoli di Enzo Dalò primo tra tutti in Momo poi abbiamo parlato di Miyazaki con Francesca e abbiamo citato Castello Errante di Hall Città Incantata Nausica della Valle del Vento il mio vicino Totoro e io ce ne aggiungo un altro per i più piccoli che è Chichi consegna domicilio e vedrete che rimarrete entusiasti di scoprire il grande disegnatore Miyazaki fra che dire abbiamo detto tutto credo abbiamo detto tutto ringraziamo coloro che sono rimasti fino all'ultimo con noi qua a Sesto Network volevo ringraziare anche chi si sta preparando per la puntata di domani domani andiamo in giro per l'Europa con la nostra Antonella da Londra e Barbara da Lisbona e poi domani novità novità rispetto a tutto quello che è in programmazione per questo fine settimana con Erika abbiamo altri ospiti domani? Abbiamo Erika gente in giro per il mondo e poi non svegliamo più non svegliamo non svegliamo i segreti di questa della puntata di domani perciò ragazzi adesso veramente abbiamo riflettuto tanto sull'ultima canzone da mandare da mandare però Shakira non poteva che non chiudere questa bellissima trasmissione in allegria dai Elias perciò ricorda un po' i cartoni animati anche lei buon buon giovedì e appuntamento domani dalle 10 e 30 alle 11 e 30 su Sesto Network con Biblio Boom ciao 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 ciao